Nel 1986 c'è stata la prima connessione a internet da parte del CNR di Pisa, ma sarà solo nel 1994 che in Italia viene venduta per la prima volta l'accesso alla rete. Io sono arrivata a vivere in Italia nel 1996 e nel 1998 scrivevo per la New Sounds a V-mercate in Brianza. La New Sounds è stata molto famosa al tempo per le riviste e i cd che pubblicava sul tema della rivista ed era anche famosa per avere la tecnologia più all'avanguardia e infatti al di là di computer spettacolari per la grafica e per la musica c'era internet. Internet è nato negli Stati Uniti dapprima come mezzo di comunicazione per l'esercito, quindi è passato alle università. In Italia al tempo quello che si trovava su internet erano prodotti eccellentissimi, ovvero le comunicazioni universitarie, ovviamente mi sto riferendo a internet in inglese, in americano, quindi c'erano articoli di studiosi universitari, forse c'era anche qualcosa dell'esercito ma non era certamente quello che a me interessava e quindi era davvero una gioia per il vero ricercatore perché si trovava del materiale ottimo di studio, di ricerca, di discussione perché sappiamo benissimo che quando uno scienziato dice di aver trovato A subito dopo un altro scienziato dirà che no invece non è A ma è B e un altro ancora dopo un po' dirà no no non è A né B è C. Quindi la discussione fra le varie teorie era lì alla portata di chi poteva utilizzare questo mezzo. E ovviamente la scrittura era seria, non era dettata da fantasie o ipotesi o speculazioni e se c'era una speculazione veniva indicata come speculazione e non come verità. Le università americane sono note perché offrono piani di studio interessantissimi e non solo inerenti la materia che lo studente vuole portare avanti ma comprendono tutto lo scibile umano. Quindi si trovavano anche scritti di altre religioni accanto al cristianesimo che comunque è la religione ufficiale degli Stati Uniti sia quello cattolico sia quello dei christians, dei protestanti. Ed è appunto a uno di questi articoli che mi riferisco ora sul buddismo. Era una lezione in cui si parlava dei demoni. Il buddismo tibetano in modo particolare è il buddismo è il buddismo che tratta in un modo molto approfondito la questione dei demoni. Il buddismo è figlio dell'induismo dove anche nell'induismo troviamo la descrizione dei vari demoni. Ma il buddismo tibetano affronta la questione perché i demoni possono interferire malamente con l'espressione della persona umana. Potremmo definirlo questo fenomeno possessione. Cosicché la psicologia del buddismo tibetano include anche la demonologia. In uno di questi articoli che vi dicevo che al tempo, all'inizio di internet, gli indirizzi internet erano impossibili da memorizzare perché erano lunghissimi, pieni di segni grafici, lettere dell'alfabeto, maiuscole, minuscole. Bisognava proprio fare copiare e incollarlo da qualche parte, cosa che io ho fatto per ogni tipo di riferimento che prendevo. Purtroppo devo dire al 99% tutti quegli scritti sono scomparsi perché io poi li ho ricercati ma ovviamente quell'indirizzo, quella stringa così articolata non funzionava più, non veniva fuori più niente. Quindi siamo stati poi sommersi dal bailame che è venuto fuori. Ad ogni modo in questo articolo si scriveva questo lama tibetano di cui purtroppo non ricordo il nome perché appunto l'articolo non c'è più. Dunque questo lama spiegava come i demoni che ce ne sono a bizzeffe, che ci svolazzano attorno, che ci fanno dispetti, che ci combattono, che ci ostacolano e se trovano una personalità disponibile entrano in questa persona, la posseggono e questa persona rimane agli ordini di questi demoni e se è questo il caso la medicina tibetana può procedere ad aiutare la persona a liberarsi da questi demoni che la possiedono, un po' come l'esorcismo dei cattolici anche se segue procedimenti ben diversi e anche la conoscenza e la preparazione dei monaci che è davvero molto più profonda di quella che ho potuto appurare fra i cosiddetti esorcisti cattolici. Tuttavia il lama continuava dicendo che invece ci sono tantissimi altri esseri che a noi appaiono umani ma che se noi vedessimo con l'altra vista vedremmo che invece sono abitati questi esseri da mostruosità, ovvero individui che nascevano già con al loro interno dei mostri, dei demoni che però avevano assunto la forma umana e a noi umani normali appaiono dei normali esseri umani, magari vediamo certo che sono cattivi, che sono odiosi, che sono tremendi, però la cosa finisce lì. In questo ultimo caso non ricordo che il lama desse una possibilità di tra virgolette guarigione perché loro erano già così, erano a posto così, erano nati così, l'unica cosa che si poteva fare allontanare, allontanarli e cercare di mantenersi il più possibile lontano da certi individui mostri o demoni. Nell'esoterismo occidentale si dice che la terra è un porto di mare in quanto qui sulla terra si incarnano anime di ogni tipo, che arrivano da varie esperienze che non sono solo esperienze di altre vite qui sulla terra ma esperienze da altri pianeti, da altri universi, quindi qui sulla terra possono arrivare anime o comunque esseri che nelle loro esperienze precedenti non avevano le fattezze umane. Oltre a non avere le fattezze umane, gli esseri che arrivano da altre esperienze possono avere anche delle moralità diverse perché come dico spesso la nostra anima deve aver esperito ogni tipo di possibilità per poter arrivare a capire anche il male quindi bisogna anche sperimentare esperienze dove noi in prima persona siamo cattivi, crudeli, compiamo il male perché solo così lo conosciamo e quindi in un'altra successiva incarnazione possiamo vedere di contribuire a trasformarlo e lo possiamo fare proprio perché lo conosciamo. Quindi anche nell'esoterismo occidentale è inclusa la possibilità di nascere con le sembianze umane ma essere all'interno dei mostri. C'è poi un'altra possibilità. Sembrerebbe che esistano delle comparse ovvero degli individui che appaiono umani ma non hanno dentro niente, sono vuoti, sono appunto delle comparse che servono a creare la coreografia del nostro mondo e della recita che noi siamo venuti qui a recitare sì perché noi ci scegliamo proprio una coreografia, una storia, una recita da recitare attraverso cui noi ci mettiamo alla prova per le qualità che pensiamo di aver già sviluppato e ci alleniamo a sviluppare altre caratteristiche. Quindi ci sono tanti personaggi attorno a noi che sono delle comparse, non hanno dentro niente, servono da fare la coreografia della nostra recita. Per completezza vorrei dire che non tutte le comparse sono vuote. Alcuni testi esoterici riferiscono che quando c'è da preparare la storia che l'anima sceglie di recitare arrivando adesso qui sulla terra e c'è un personaggio di cui si ha bisogno è come se si chiedesse lì al convegno di anime se c'è qualcuno che se la sente di arrivare qui sulla terra con quest'anima e impersonare il personaggio di cui c'è bisogno. E questi personaggi volontari, diciamo così, che sono creati da anime di volontari spesso non hanno niente a che vedere con l'anima che sta recitando questa storia, questa coreografia. questo lo dico perché noi spesso abbiamo la sensazione o l'idea che mettiamo la famiglia in cui nasciamo sia composta da persone con cui abbiamo già avuto esperienze passate. Non è detto, non è detto. possiamo avere dei familiari, specie quelli più tosti e odiosi, con cui noi non abbiamo assolutamente niente a che fare, come anime non abbiamo avuto una storia in comune, ma che semplicemente si tratta appunto di un'anima volontaria che si è prestata a recitare, mettiamo, quel ruolo personaggio odioso proprio perché questa è un'anima che deve sperimentare cosa significa essere un personaggio odioso e qui c'è una recita in cui c'è necessario il ruolo di un personaggio odioso che vada a tormentare l'anima del soggetto incarnato ed ecco che i personaggi sono fatti, quindi quando si legge di comparse possono sì essere involucri umani vuoti, ma possono anche essere anime di volontari che si incarnano a recitare quel ruolo. il tema degli involucri umani vuoti va approfondito perché questi involucri vuoti possono essere vuoti per varie ragioni. La prima è quella che accade, si produce quando un'anima si incarna sulla terra per affrontare determinati insegnamenti e allenamenti e poi visto che si è scelta un personaggio umano con le caratteristiche umane difficili non riesce a utilizzare questo personaggio umano come avrebbe dovuto per poter imparare le lezioni che è venuta qui ad apprendere, succede che l'anima vedendo che non ha più possibilità esce dall'involucro umano e lo lascia vuoto. Vuoto è quindi a disposizione di altri esseri che lo possono utilizzare. In questo caso si cita anche la possibilità che una nuova anima entri in questo involucro lasciato vuoto da quest'anima precedente che non riesce, non è riuscita a utilizzare il personaggio umano che si era scelta e quindi ora viene riempito da un'altra anima che dovrà utilizzare questo personaggio con le sue caratteristiche per fare il suo percorso di allenamento spirituale. Di questi individui vuoti ha parlato anche Rudolf Steiner che li ha chiamati di Ichlose Menschen ovvero gli esseri umani senza l'Io spirituale. Steiner parla di questi involucri vuoti che vengono riempiti da spiriti della natura, demoni e li descrive come possibili errori di creazione ma qui dobbiamo capire a che cosa si può riferire perché non è che la divinità fa degli errori di creazione Ho già detto in altri miei audio video che tutta l'esperienza evolutiva di un'anima segue il percorso dell'imparare a creare perché noi siamo come Dio e quindi come Dio siamo creatori lo vediamo anche noi nel nostro piccolo, noi creiamo la nostra vita, facciamo dei progetti, abbiamo delle idee anche quando di idee ne abbiamo poche seguiamo una certa progettualità che c'è stata inculcata o dalla famiglia o dalla società e quindi arriviamo a creare quello che pensiamo ci tocchi fare. Quando si leggono i resoconti delle vite tra le vite e io ve l'ho già detto in un altro audio video mi riferisco principalmente agli studi del dottor Michael Newton che è stato il primo in assoluto che ha scritto di questa situazione. Negli anni 60 come raccontavo già in altri miei precedenti audio video praticamente diversi psicologi e psichiatri a un convegno discutevano sul fatto che non si riusciva a curare determinati pazienti che sembravano avere dei disturbi non riconducibili ad alcuna esperienza passata così questo gruppetto ha deciso di provare a tornare all'ipnosi. L'ipnosi era stata usata tantissimo nell'ottocento poi era un po' caduta in disuso. Ora immaginatevi la sorpresa perché a quel tempo la New Age non c'era ancora quando questi psichiatri, psicologi, terapeuti hanno dato il comando ai loro pazienti di tornare al momento in cui si era verificato quel trauma di cui adesso soffrivano con manifestazioni fisiche inspiegabili appunto e si sono sentiti raccontare da questi soggetti sotto ipnosi profonda che faccio di nuovo una parentesi non è quelle visualizzazioni che oggi fanno tutti e vi dicono che vi stanno ipnotizzando quella non è ipnosi profonda quella è una leggera trance l'ipnosi profonda si entra in ipnosi non si è consapevoli di quello che accade e alla fine il terapeuta ci deve svegliare con il comando di ricordare o no quello che è accaduto dunque immaginatevi lo stupore quando questi soggetti in ipnosi profonda hanno riportato di eventi traumatici vissuti in altre vite questi terapeuti non erano per niente preparati a questo tipo di risposta perché appunto proprio non si parlava di altre vite il dottor Michael Newton è stato il primo quindi che ha scritto dei libri dove ha codificato le varie esperienze e fra i vari libri che ha scritto ha scritto non solo delle vite precedenti e tutto ma anche della vita tra le vite ovvero che cosa accade all'anima quando non è incarnata fra i vari resoconti c'è anche quello di anime che raccontano che vanno a fare gli esercizi di creazione ovvero sono dei luoghi come dei laboratori uno in particolare è il laboratorio che riproduce la terra tale e quale ma senza gli altri ovvero si va sulla terra su questa terra fittizia e si fa esercizi di creazione su questa terra fittizia dove non ci sono gli altri che recitano le loro parti interagiscono con noi dandoci fastidio e tutto è come un teatro vuoto dove noi andiamo lì e facciamo i nostri esercizi di creazione perché il senso evolutivo è quello di riuscire a creare appunto le varie realtà quindi di errori di creazione ce ne sono tantissimi perché noi anche quando non siamo incarnati continuiamo a fare esercizi di creazione che poi vivono anche come appunto questi involucri vuoti che sono degli come Steiner dice degli errori di creazione essendo involucri vuoti vengono adoperati da appunto varie entità sottili anche mostruose dove pure accade che un involucro sia abitato da diverse entità così siamo tornati a quello che dicevo all'inizio con il lama tibetano che parlava appunto di individui che contenevano mostri e demoni Guru Padmasambhava è stato l'indiano che ha portato in tibet il buddismo e nota la sua azione con i demoni perché appunto i demoni o i vari esseri mostruosi esistono Padmasambhava con la sua fortissima personalità li ha domati e che cosa è successo? che i demoni sono diventati i protettori del buddismo rimangono sono demoni ma al servizio del buddismo tibetano quindi sembrerebbe che l'unica soluzione di fronte a esseri di questo tipo sia quella di domarli il problema è che bisogna essere una personalità totalmente integerrima pulita diamantina perché altrimenti i demoni annientano noi dobbiamo 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 Grazie a tutti